La partita Bergamo-Calcetto-Tognolo è finita 4-8 per il Tognolo che è riuscito a vincere una partita molto sofferta. Intervistiamo uno di quelli che ha fatto più tre gol oggi ed è Stefano Lucini. Oggi ho fatto un'ottima partita, una grande emozione segnare tre gol visto che è il primo anno che gioco Calcetto. La devo anche ai miei compagni che mi hanno fatto diversi assist, diverse giocate buone e comunque sono contento anche per la partita perché noi puntiamo ancora alla fine al primo posto. Oggi il portiere Igor Carobelli ha giocato fuori e ha anche segnato. Il Tognolo ha affrontato il Bergamo-Calcetto-5 e è riuscito a vincere nonostante fosse rimaneggiato. Cosa ci dice la partita? Niente, siamo arrivati qua abbastanza rimaneggiati ma con la voglia di vincere è stata una partita combattuta fino all'ultimo. Cosa pensi alla prestazione dei tuoi compagni e soprattutto di Hiccio che ha fatto tre gol? È un ragazzo che sa quando farsi valere, si aspettava tanto questo momento, si vede che è entrato in forma, faccio i complimenti al mio compagno Stefano Lucini. Abbiamo ancora qualche possibilità secondo te di arrivare i primi? Beh, con questa vittoria diciamo che abbiamo riaperto il campionato, speriamo in bene in un gran finale. E ti accontenterebbe essere di un playoff? Beh, io punterei anche più in alto, io punto al passaggio diretto. Da tre viol è tutto, il Tognolo vuole andare a prendere la prima, andiamo! Grazie. 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 Grazie.